Gentili telespettatori, buona giornata. Così Marina Berlusconi sfida e scrive a Repubblica le cose che dite sono completamente false. Non c'è nessuna cospirazione contro Giorgia Meloni, sono solo notizie false. E così una severa risposta della primogenita di Silvio Berlusconi, Marina, al quotidiano La Repubblica, per fare chiarezza sui legami interni al centro-destra. La prima lettera di Marina Berlusconi era del 30 luglio scorso e rispondeva alle accuse su presunti debiti di Fininvest saldati con l'entrata in politica di Silvio Berlusconi. La recente pubblicazione sul sito e sul giornale cartaceo risponde al retroscena rivelato il 18 settembre da concetto vecchio in prima pagina su Repubblica. Secondo le informazioni di Repubblica, Gianni Letta, ex collaboratore fidatissimo di Silvio Berlusconi, è il delegato scelto da Marina Berlusconi per valutare un possibile allontanamento sia da Meloni sia da Antonio Tajani, attuale leader di Forza Italia. L'articolo suggerisce che Gianni Letta starebbe assistendo Marina per una rivoluzione di Forza Italia verso una posizione più liberale, contraria a Fratelli d'Italia e Lega e per un futuro legame con il centro di Renzi. Dopo un'intervista rilasciata al Corriere e i successivi articoli su Marina Berlusconi ha continuato a delineare questa narrativa, iniziata inaspettatamente con l'intervento sulle pagine del giornale Repubblica non vicino a suo padre. Il direttore Maurizio Molinari di Repubblica scriveva su Marina Berlusconi che nega la veridicità del retroscena pubblicato dalla Repubblica. Il direttore Molinari parla proprio di Marina Berlusconi che nega tutti i retroscena del suo giornale, affermando di non voler più tollerare ricostruzioni prive di fondamento con la realtà. Marina Berlusconi non vuol più sentire le balle di Repubblica. Poi che siano balle o no, sapete i retroscena non sono verificabili perché il retroscena secondo chi lo pubblica è un qualcosa che è stato detto da qualcuno che la salunga ma non si può rivelare chi è perché se no la fonte eccetera eccetera. Quindi i retroscena possono essere completamente veri, completamente falsi, cioè inventati o parzialmente veri. Questo non lo si saprà mai. Esce un retroscena, ricordatevi che non è una notizia il retroscena, ma è un mi hanno detto che. Quindi anche quando Marina Berlusconi dice sono notizie false, in realtà il retroscena non è una notizia. Il retroscena è mi hanno detto che, ma non vi posso dire chi. Ecco, quindi il retroscena, attenzione, non è una notizia, ma sarebbe qualcuno che racconta qualcosa. Ecco, la figlia maggiore del Cavaliere afferma che le dichiarazioni su una presunta disistima nei confronti di Meloni e una marcata insoddisfazione per il lavoro di Tajani in Forza Italia sono completamente false. Come vi dicevo, a questo punto possiamo dire che le ricostruzioni sono completamente false, non possiamo dire che le notizie sono completamente false, perché non sono notizie. E Marina Berlusconi dice che i fatti sono diametralmente opposti da quelli raccontati da questo giornale. Quindi il rispetto sia per il Premier che per il leader del suo partito, oltre ai pensieri, anche i fatti citati da Repubblica sarebbero falsi. Incontri trasformati in assurde riunioni segrete che celebrerebbero complotti politici da romanzo fantascientifico. Si parla appunto dell'incontro Tamarina Berlusconi e Mario Draghi con la partecipazione di Gianni Letta. Secondo il retroscena di Repubblica, il governo Meloni non avrebbe visto di buon occhio, mentre la versione ufficiale e più semplice, dopo il report sulla competitività presentato in Unione Europea, Draghi ha considerato incontri anche con il settore privato per discutere di possibili investimenti futuri. Ma su quello che scrive Marina Berlusconi a Repubblica, dice la verità è completamente da un'altra parte e accusa il quotidiano fiancheggiatore di notizie false e deliri in ricostruzioni inesistenti, un teatro che non corrisponde alla realtà. Il testo molto severo fornisce un punto di vista definitivo della questione. Beh, insomma, diciamo che i giornali giocano con il retroscena. Vi faccio un esempio. Allora, io voglio dire che Bonelli sta tramando contro la Schlein e non ho sentito nessuna notizia del genere, però è una cosa che a me piacerebbe dire, no? Che Bonelli trama contro la Schlein, ma non esiste nessuna notizia. Allora cosa faccio? Io voglio proprio dire questa cosa qua, ma non c'è notizia. Allora che faccio? Me la invento di sana pianta e scrivo su un giornale Bonelli trama contro la Schlein, retroscena. Mi hanno detto, persona che non posso rivelare, evidentemente perché le fonti non si rivelano, ma una persona molto fidata e vicinissima a Bonelli, ha detto che Bonelli trama contro la Schlein per diventare segretario del Partito Democratico. Viene fuori, la gente la legge, ne parlano nei talk show di politica, però me la sono completamente inventata, perché a me piace l'idea che Bonelli trami contro la Schlein, allora me invento completamente questo fatto e lo faccio passare come retroscena, dietro le quinte, indiscrezione. Cioè, mi hanno detto che, ma non vi posso dire chi me lo ha detto. Ecco, quindi il retroscena può essere vero, verissimo, o completamente falso, falsissimo. Questo è un escamotage che i giornali utilizzano per dire tutto quello che hanno voglia. Attenzione, non sono notizie false, come dice Marina Berlusconi, sono retroscena, magari inventati, perché vengono utilizzati per fare propaganda politica. Quindi si inventano a volte dei retroscena, che non sono notizie, si inventano dei retroscena per portare acqua alla propria parte politica. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti.